Eccoci, buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra centocinquantettesima live del podcast di Ximeo, con il nostro applauso finto, il nostro pubblico finto, speriamo che arrivi anche del pubblico vero, anche perché oggi è la Repubblica, o meglio o meglio, la festa, la festa della Repubblica Italiana, e pertanto, insomma, è una festa molto importante, per cui molti di voi saranno in giro, magari siete su un prato, state grigliando, oppure siete al mare, oppure state semplicemente facendo una passeggiata, oppure avete il tempo di ascoltarci live, e sarebbe molto molto bello, anche perché oggi è giovedì, e secondo me è un bel giorno per parlare di meditazione, e in particolare, anche oggi, torniamo a parlare di meditazione e dell'interferenza che noi chiamiamo top-down e bottom-up. Ne abbiamo parlato molte volte su Ximeo, ci sono puntate ad hoc, ma è il modo più semplice questo, per riuscire a spiegare come funziona la meditazione, e soprattutto riuscire a distinguere un po' i vari tipi di pratiche. Come sapete, esistono tantissime pratiche di meditazione, ne abbiamo parlato molte volte, ma il modo più semplice per differenziarle è vedere che cosa accade nel nostro cervello quando facciamo quel tipo di meditazione. Attenzione, non sto parlando delle strutture che si attivano o che non si attivano nel cervello, ma sto parlando del modo classico con il quale funziona il nostro cervello. Essenzialmente, come puoi immaginare, il nostro cervello è a contatto con il mondo attraverso i propri sensi, attraverso ciò che vede, ciò che sente, ciò che percepisce. Tale contatto con il mondo, ovviamente, ha una struttura gerarchica, potremmo dire così, o meglio, ha una struttura... non è ontogene... non so trovare il... non mi viene adesso il termine adatto, ma questa struttura potremmo dire che parte dalle sensorialità, cioè immagina un bambino appena nato, che cos'ha? Ha solo sensazioni, cioè sensazioni, il tatto, ciò che percepisce dei propri movimenti, e sono anche, come puoi immaginare, piccole sensazioni che lui piano piano impara attraverso il movimento a coordinarsi, a conoscere il mondo. Successivamente poi emergeranno altre sensorialità, ovviamente c'è già il senso del gu, una specie di senso del gusto e quant'altro. Tutto questo si chiama, per il nostro cervello, input, chiamiamolo così per non dargli nomi complessi, bottom-up, cioè dal basso verso l'alto, dai sensi, dalla realtà sensoriale, verso il nostro sistema nervoso centrale, dal basso verso il cervello, mettiamola così, anche se è un po' sbagliato, ma datemela così. Via via che il bambino cresce e impara, impara ad esempio, nell'esempio più classico che facciamo sempre, a non toccare il fuoco, perché quello lo scotta. La volta successiva, quando il bambino vedrà il fuoco, se si è già bruciato o qualcuno gli ha urlato di non toccarlo, avrà creato una mappa dentro di sé, una mappa concettuale, un concetto che gli dice, se tocchi il fuoco, ti bruci, non toccarlo. Così questa mappa, tra virgolette, interferisce, andando dall'alto verso il basso, top-down, interferisce con la possibilità di fare esperienza, cioè magari di scoprire, cosa che ovviamente sconsiglio ai bambini all'ascolto, di scoprire che può esistere un fuoco che invece non scotta, un fuoco freddo, mettiamola così. In realtà, via via che noi cresciamo, accumuliamo talmente tante conoscenze, che a un certo punto abbiamo sempre meno, non la possibilità, il bisogno di accedere ai nostri sensi, nel senso che hai sempre meno bisogno di cercare di toccare qualcosa per averne esperienza, perché via via che impari, esplori, crei delle mappe mentali di tutto ciò che ti circonda e queste mappe mentali ti aiutano a fare un sacco di cose, ti aiutano a risparmiare energia, ti aiutano a creare composizioni artistiche nella tua mente, mettendo insieme concetti che magari nella realtà non sarebbe possibile mettere insieme, creare cose creative, ma allo stesso tempo ti limita, ti limita della capacità di restare nel tempo presente, perché queste mappe ti spostano avanti e indietro nel tempo e ti impediscono di godere pienamente di ciò che sta accadendo qui e ora. Ed è per questo che la pratica di meditazione, che attualmente ha dato maggiori risultati scientifici, è una pratica di meditazione che fa questo, che cerca di portare la nostra attenzione alla sensorialità, alla prima sensorialità, proprio alla sensazione, potremmo chiamarlo del tatto, o per gli esperti, la sensazione cinestesica, l'interocezione, la propriocezione del corpo, addirittura la capacità di capire in che posizione hai il tuo corpo, e addirittura viene vista come se fosse un altro senso, un sesto senso, potremmo chiamarlo così. Ora tutta questa faccenda qui ci spiega che è certo che ci possono essere pratiche meditative che ci fanno immaginare, pratiche meditative che ci fanno, non so, magari ci fanno entrare dentro noi stessi attraverso un mantra, pratiche meditative che ci fanno respirare in un certo modo per raggiungere un certo stato fisico o mentale, ma queste pratiche meditative usano il top down, ciò che tu conosci, per influenzare tutto il resto. Invece quello che noi dobbiamo fare nella nostra pratica di meditazione è l'esatto opposto, e quindi trasferirci al bottom up. Ultima cosina, e poi vengo alla chat, arrivo alla chat, anche perché temo che siate in due, che siate in due in questo momento live, perché oggi è una giornata un po' così, anche se, eccoci qua, anche se sono un po' stupido perché dovevo fare questo, anzi, telegram, telegram, arrivo ragazzi, so che oggi saremo pochi ma buoni, perché il tema di oggi vi assicuro, nonostante i più esperti, siamo live, siamo live, i più esperti di voi conoscano questa tematica, perché c'è chi, perché non vai? Benissimo, grazie. Grazie telegram per funzionare nel momento più opportuno. Niente, non funziona, scusate, eh. Ok, benissimo, grazie telegram dal computer che funzioni divinamente. Dai, ah, ecco qua, adesso funziona. Ok, torniamo, torniamo, torniamo al nostro top down e bottom up. Ne abbiamo parlato tantissime, tantissime volte di questa faccenda. È una faccenda bellissima, perché ci mostra in modo molto semplice, ok, è anche un po' una metafora, ok, di come funzioniamo, ci mostra in modo molto semplice come funzionano tutte le pratiche di meditazione. Il nostro invito è quello di spostarci più verso la sensorialità. Ovviamente ci sono anche pratiche che riguardano immaginazioni guidate, mantra e altre tecniche che sono top down, che fanno bene, ma non servono per ciò che serve a noi, cioè diventare più consapevoli, diventare più consapevoli di ciò che ci accade. E per farlo dobbiamo fare la cosa più difficile del mondo, che è cercare di restare ancorati a ciò che sentiamo e non ciò che vorremmo sentire. Restare ancorato a ciò che senti e non ciò che vorresti sentire. Quindi non è immaginarmi una spiaggia e sentirmi bene. E sentire quello che c'è. C'è un fastidio nel piede? Sento il fastidio nel piede. Non cerco di rilassarlo, di migliorarlo, non mi massaggio il piede o mentalmente immagino che diventi fresco e rilassato e sereno, oppure respiro dentro di lui energia bianca che lo calma. Tutta sta roba può funzionare, questa roba che sto dicendo. Però non serve per addestrare il cervello quanto la pratica di mettere da parte le rappresentazioni top-down e riportare ancora, 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 ancora l'attenzione sul bottom-up, su ciò che c'è qui. Allora, mi sentite? Mi sentite bene? Signore e signori, ciao Isaac, ciao Andrea, ciao John John, ciao Salvatore, Simone, Giovanna, ciao Giovanna, Antonietta, Ciro, Ceci e Alessandra, ciao a tutti e a tutte. Simone scrive, Antonietta scrive, oggi vacanza e finalmente riesco a partecipare alla live, grazie. Fatemi sapere se si sente, perché potrebbe sentirsi solo da un lato del vostro microfono, ma evitate di preoccuparvi, perché tanto per la pratica di meditazione che faremo tra poco, non durerà molto, dato che ne abbiamo già fatti due, per la pratica di meditazione che faremo tra poco, sappiate che non conta nulla che l'audio vi arrivi a destra o a sinistra, perché il vostro scopo non è entrare in uno stato particolare di coscienza, ma è entrare nella realtà che ti circonda in questo momento, che è la cosa più difficile al mondo. Allora, Simone scrive, lo stress, quindi, l'essere in affanno, in riserva di energia, può remare contro alla meditazione? Nel senso, può andare a favorire processi top down per risparmiare energia? Assolutamente sì. A Simone, assolutamente sì. Anzi, è beccato proprio in pieno. Una delle cose che fa perdurare lo stress più di tutti. Lo stress non è dato dal fatto che hai perso lo stress, chiamiamolo cronico, o comunque i problemi di stress, perché lo stress non è problematico. Ogni cosa, ogni esperienza nella vita produce stress. Grazie a Dio. Perché l'eustress ti fa bene, ti fa crescere. Dà una risposta ormetica al tuo corpo, lo fa crescere. Come quando vai in palestra, stressi i tuoi muscoli e questi generano ipertrofia, diventi più forte. Tuttavia c'è uno stress che invece può consumarci. Il distress, come veniva chiamato da Selic, quello che l'ha scoperto lo stress. Ebbene, questo tipo di stress è molto legato all'aspetto mentale, più che fisico. È molto più legato a come tu interpreti le cose che ti accadono rispetto alle cose che ti accadono. Questo è un po' di epiteta memoria, no? È un po' stoica come cosa. È mai esattamente così. Quindi Simone c'è beccato in pieno. Meno energie ho, più mi rifugio nei miei automatismi. I miei automatismi solitamente sono generalizzazioni top-down che ho già imparato nel passato. Mi affido ad esse perché funzionano abbastanza bene. Tuttavia, in realtà, affidandomi ad esse non mi sento bene. Oppure, peggio ancora, Simone, per sentirmi rilassato, aumento le rappresentazioni top-down convinto che, se ci penso abbastanza, mi rilasserò. Se ci penso abbastanza, troverò una soluzione. E una volta che avrò trovato una soluzione o un significato o una spiegazione a ciò che mi sta accadendo, mi sentirò meglio. Ma non è vero. È la creazione di una nuova rete top-down che magari ti fa sentire meglio per qualche istante perché hai trovato un senso. Ma cinque minuti dopo e siamo di nuovo da capo. Mettiamola così. Allora, eccoci qui. Buon pomeriggio, Giovanna. Cioè, l'idea di agire sul sintomo e non sulla causa ci può stare. Ciao, ciao a tutti. Isaac, grazie. Ti sento benissimo, ottimo. Ti ascolto con le cuffie e sento solo la cuffia a sinistra, lo so. Anch'io sento solo a sinistra. Eh, lo so, ragazzi, è così. Purtroppo ho avuto... Ho questo microfono. Devo cambiare la scheda audio. Devo comprare una scheda audio che costa tipo cinque volte questa. E mi dispiace perché non ho lo spazio. Non è che non ho... Avrei anche le risorse economiche per prendere. Non costa tantissimo. Non costa migliaia di euro. Però mi piacerebbe prendere tipo la Rodecaster. Ok, per chi lo sapesse di cosa sto parlando. Però non mi sta sulla scrivania qua. È enorme. Quindi per ora, se volete una voce abbastanza buona, ecco. È che il mio Yeti funziona malissimo. Peccato, peccato. Ok. Solo un lato, ma non è un problema. Grazie Ciro. Si sente a sinistra. Oggi con le cuffie sento solo a sinistra, ma non è un problema. Ciao Cristian. Grande Cristian. Buongiorno e buona festa. Grazie Cristian. Ciao Roxanne. Ciao Jenna. Sono Roxanne. Partecipo per la prima volta alla live. Che bello. Oh, benvenuta Roxanne, che è super attiva su Instagram. Bene. Allora, che dire? Attenta, attenzione qui. Che dire? Facciamo? Dato che siamo già un po' di minuti che siamo qui, io direi che possiamo fare una piccola pratica di meditazione. Piccolissima. La facciamo davvero piccola, per cui trova la tua posizione comoda, se hai già una posizione per meditare, la tua asana, la tua posizione, trovala. Se non hai il tempo, perché non sei nel luogo in cui mediti, puoi semplicemente sederti su qualche sedia, puoi anche sederti per terra se vuoi. Se sei già allenato e vuoi restare con la schiena diritta, stai con la schiena diritta. Se non sei allenato puoi appoggiarti tranquillamente, ma cerca di restare diritto, non ti sdraiare, diciamo non ti accasciare troppo, resta dritto e con una posizione abbastanza fiera, perché noi dobbiamo essere presenti, non dobbiamo rilassarci. Ora, mentre ascolti la mia voce, trova la tua posizione. Inizia a portare l'attenzione a tutto ciò che ti circonda. Vorrei che notassi, spostando il tuo sguardo in giro, che ogni oggetto che vedi rimanda ad un insieme di connessioni mentali. Io davanti a me ho il monitor, e il monitor mi fa pensare al computer, che mi fa pensare alla tastiera, al mouse, un insieme di associazioni. Nota come emergono queste associazioni, queste catene associative. Ti basta notarne anche solo una, guardandoti in giro. Guardati in giro. Ognuno di noi può metterci più o meno tempo a notare questa cosa. Se non ci riesci, va bene lo stesso. Adesso, semplicemente, porta lo sguardo in basso davanti a te. E se vuoi, chiudi gli occhi. E porta la tua attenzione alla sensazione del tuo corpo. Potresti notare che alcune parti del tuo corpo si sentono con più forza, con più intensità. Potrebbero essere i piedi, le mani, la bocca. Nota qual è il punto dove senti di più, dove ti sembra di sentire di più. e quando l'hai trovato, spostaci sopra tutta la tua attenzione. Potresti notare che le sensazioni sono sempre in leggero movimento. c'è com'è un continuo movimento, movimento dei di tutte le tue sensazioni. Ed è molto probabile che sia arrivato un altro pensiero. Un'associazione. Qualcosa che magari non c'entra niente. Questo è il momento più importante quando ti accorgi che un pensiero, un'immagine, un contenuto mentale ti sta portando lontano da quella sensazione. Anche le mie parole ti portano un po' lontano. ritorna a quella sensazione. Nota se ti stai distraendo. Quanto sei vicino a quella sensazione. c'è qualche pensiero che ti allontana da quella sensazione. Un'idea. Qualcosa che devi fare tra poco che ti sembra più importante di restare qui. Qui e ora. o qualcosa che hai fatto prima. O forse senti che il cuore ti batte più forte o che il respiro cambia. Resta un attimo lì. Resta gentilmente in ascolto. Senza fare niente. E se ti distrai notalo e torna gentilmente a quella sensazione. rara più forte è o Ebbene, ora con i tuoi tempi, quando ti senti pronta, quando ti senti pronto, puoi riaprire gli occhi. Se invece stai ascoltando quest'audio in un altro momento, se vuoi puoi interrompere la registrazione e proseguire con la tua meditazione. Bene. Datemi qualche segnale. Quando avete riaperto gli occhi, devo avere gli occhi aperti, immagino, Ciro. Beh, si può fare anche con gli occhi aperti. È molto più difficile, ma si può fare anche con gli occhi aperti. È proprio per questo, Ciro, che ho iniziato facendovi guardare in giro, per farvi notare che è molto più difficile con gli occhi aperti, perché il mondo intorno a noi ci attiva in rappresentazioni. Quindi il mondo intorno a te attiva rappresentazioni mentali di ciò che vedi e quindi crea catene di significati che ti portano inevitabilmente nel top down. Eccoci qua, siamo tornati. Ok, molto bene. Ora, lo so che sembra strano, ma questa pratica qui, semplice, semplicissima, riporto l'attenzione alla sensazione, ritorno lì, noto quando mi distraggo, eccetera, è una sensazione, è una meditazione che fa moltissime cose, oltre a allenare la tua attenzione, renderti più consapevole, ma ti fa anche stare meglio. Non ti devi aspettare di stare meglio, perché la pratica è osservare ciò che c'è e non ciò che dovresti, e non ciò che vorresti ci fosse, no? Questa differenza è importantissima. Però, paradossalmente, ti fa stare meglio, perché è come se pulisse, tra virgolette, quei canali sensoriali che utilizziamo sempre meno, perché siamo abituati ad anteporre ciò che sappiamo rispetto all'esperienza, sempre. È come se l'esperienza, dice qualcuno, facesse male, e notate, tutti gli altri sensi servono per proteggerci dall'esperienza. Anzi, tutti gli altri sensi servono per anticipare l'esperienza primaria, che è la cinestesia, ciò che senti, ciò che percepisci. È una figata. Eccoci qua. Ci sono Antonietta, John, ottimo Roxanne, mamma mia, meraviglioso, ne avevo un bisogno incredibile, mi sono sentita nel mondo, parte del mondo, questo è bellissimo Roxanne. Anzi, mi dai modo di parlare di una cosa molto importante. Simone, fantastica meditazione? Sì, esatto, chiedevo questo perché sento spesso parlare di meditazione come strumento per ridurre il distress. Ma prendiamo, ad esempio, il caso di un distress legato ad un'autostima ferita che genera interpretazioni distorte di ciò che ci accade e che costringe quella persona a tenere sempre alte le difese. In questo caso non è più utile agire direttamente su quello, per questo mi dava l'impressione di agire solo su un sintomo con la meditazione. No, è invece proprio il contrario, Simone. Ciò che abbiamo scoperto è che in realtà è molto più potente far sì che tu possa, è molto più potente, riuscire ad osservare, mettiamo, quella interpretazione distorta senza crederle, ok? Cioè, quindi, restandone, è come per dire, sei lì che senti i tuoi piedi, senti il tuo respiro, appare quella cosa distorta che ti dice, non so che sei un pirla, e tu la guardi senza crederle, non perché ti convinci di non crederle, ma perché osservandola nel presente la vedi come tutti gli altri pensieri, come tutti gli altri contenuti mentali. Questo fa sì che tu modifichi il rapporto che hai con il pensiero. Questa cosa, Simone, è tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questa cosa è la rivoluzione della terza ondata cognitivo-comportamentale, che addirittura ha sconvolto i miei colleghi, che giustamente dicevano, no, scusa, prima tu risolvi mentalmente, facciamo un esempio, ammettiamo che io pensi di essere una persona di poco valore perché, non lo so, perché non ho capelli, ok? È vero, lo sapete, ok? Quindi ho poco valore perché non ho i capelli, questa è una distorsione, ok? Sono scemo? No, perché è ovvio che tu puoi venire da me e dire, ma Genna, ma sai quante persone, meravigliose e di super valore non avevano, erano pelate come te? Sì, però non riesco a convincermene di questo. E quindi o mi metto a lottare dentro di me, Simone, raccontandomi, cercando di smontare, si chiama disputing in psicologia, o mi metto dentro di me a fare disputing continuo della mia convinzione e quindi vado alla ricerca di tutte le persone pelate che invece hanno avuto successo, eccetera, e quindi cerco di smontare quella cosa lì, dove da una parte faccio lottare la convinzione A contro la convinzione B, in un campo di battaglia che sono io. E così mi esaurisco. E invece osservo quella convinzione, come se fosse un pensiero, esattamente come tutte le altre rappresentazioni. E questo lentamente modifica il mio modo di reagire a quella convinzione. Non ho bisogno di smontarla logicamente. Non ho bisogno di fare un'operazione intelligente. Questo significa, ragazzi, che se avete convinzioni stupide, non è perché siete stupidi, ma è per altri motivi. Magari è proprio perché cercate di combatterle. Non so se riesco a capire, non so se riesco a trasmettervi la potenza di questa roba. Qualche anno fa, dei miei colleghi hanno preso un protocollo CBT, Cognitor B-Eural Therapy, cioè il protocollo della terapia cognitivo-comportamentale. Hanno detto, se sta roba è vera, sta roba che vi sto dicendo, se è vera, Allora, se io faccio un protocollo CBT senza fare il disputing delle convinzioni, funzionerà lo stesso. E ha funzionato. Esattamente come quello col disputing. Ragazzi, il disputing non è una stupidaggine. È ovvio che io posso contro-argomentare pensieri stupidi che ho in un momento. Tuttavia, quando i pensieri e le convinzioni sono molto forti, è inutile farlo, perché la gente non è scema. Se uno mi dice, Genna, io sto male perché sono pelato, io dico, beh, guarda, sono pelato anch'io, dovresti stare bene. Quello non è scemo. Mi dice, ma lo so, Genna, che c'è tanta gente pelata, ma io ci sto male. E poi è ovvio che si può fare un lavoro, ovviamente, si deve fare poi un lavoro anche rappresentazionale, Simone. Quindi si va anche sull'aspetto convinzione. Però non è detto che si debba partire da lì. E questa cosa modifica completamente la visione di come funzioni la psicologia, la programmazione mentale e, in definitiva, la nostra amata crescita personale, che tanto si fonda sull'idea di riempire la testa di minchiate per funzionare meglio, quando in realtà dovremmo liberarla per funzionare meglio. Ciò che bella sorpresa, serviva proprio, ottimo. Bella Genna, prima meditazione della vita, mi ha rilassato. Possibile? Sì, Frenchy, ci sta, la grande. Dopo dieci ore di turno, scrive Andrea, cavolo, poverina, mi sembra di essere caduta in trance, ma come l'altra volta mi è piaciuta tantissimo questa meditazione live. Mi sento benissimo personalmente, grazie Andrea. Roxanne, cosa intendi esattamente con parte del mondo? Eh, qua ci sono le domande del metamodello. Sì, è una figata, grande Erika. Ciao Axel, intendo dire che ero nel tutto nel tutto. Non c'era niente di meglio o peggio. Ma che bella descrizione che fa Roxanne. Ero tutta nel pieno, non so come altro dirlo. Questa è bellissima, questa spiegazione di Roxanne. Gabriel, buongiorno Genna, volevo farti una domanda in generale. Io mi sveglio quasi ogni giorno alle 5 e medito la mattina dopo colazione, solo che ultimamente ho la sensazione di meditare quasi superficialmente, come fosse un'abitudine. Questa è una bella domanda anche. E mi sento distante. Vorrei capire se è un sintomo del fatto che sono poco concentrato o è semplicemente un mio giudizio. Bravo, Gabriel. Ho anche pensato al fatto che magari dovrei farla in un altro momento, perché magari è troppo presto. La mia mente non è ancora sufficientemente sveglia. Ad ogni modo, le meditazioni che sto facendo in questo periodo riguardano pensieri e valori. Hai qualche consiglio? È normale? Gabriel, tu hai una domanda bellissima. Abbiamo risposto a questa domanda. Vediamo un po' se la trovo su Psynele. Scusate il rumore. Automatismo. Meditazione. L'automatismo mentale è come ostacolo. L'ho trovata. Vedete che figata poter fare la live così. Ho trovato. E in realtà è una, ah non è una puntata, è un post. Sapete che io ho scritto dei post su Psynele. Più di mille. Ma che mille? Più di tremila. Ci sono tremila post su Psynele. Alcuni belli, alcuni meno belli. E non è che... Eccoci. Ta-da! Ottimo. Eccoci, eccoci. Che spettacolo. Che figata, Simone. Grazie, grazie mille, Simone. Che figata questa consapevolezza. Hai chiarito bene. Grazie, Simone. Perché questa cosa qua, ragazzi, non è che è così chiara, è in giro. Cioè, anche chi insegna la meditazione non sa questa differenza. Cioè, se voi avete dato... Che poi non è tenuto saperlo, eh. Uno che insegna la meditazione magari di una certa tradizione ma uno che fa il mio mestiere queste cose un po' deve saperle. Altrimenti continuo a fare mescoloni. Perché una cosa è se io agisco in un modo top down e nell'altro se agisco invece bottom up. Attenzione. Non esiste il top down puro e il bottom up puro. Comunque, per rispondere a Gabriel ho appena messo su una puntata. Cosa dice questa puntata? Che quando noi iniziamo, ad esempio, ad abituarci troppo a fare una certa osservazione, ad esempio l'osservazione del respiro oppure il body scan oppure qualche altro tipo di pratica sempre di consapevolezza, il rischio è che a furia di farlo si crei un piccolo automatismo. Questo automatismo ti facilita l'immersione della distrazione e di quella sensazione che la pratica sia più superficiale. Innanzitutto, assolutamente sì, Gabriel. Lavora sul giudizio. Quando noti la superficialità, osserva la superficialità. Ricordati che meditazione significa osservare ciò che c'è. E se in quel momento, alle 5 del mattino, senti che c'è una sensazione di pratica superficiale, osservi la sensazione della pratica superficiale e noterai che osservando quel pensiero, che è un giudizio evidente, potrai renderla un po' più profonda. Ma nuovamente, devi essere semplicemente a contatto con te stesso, ricordando che più fai meditazione, più emergono automatismi. Più emergono automatismi, più è facile che tu possa finire nello stato top-down, cioè nello stato sommerso dei tuoi giudizi, da ciò che pensi e non da ciò che senti. È un po' questa la storia. Dobbiamo essere, dobbiamo fare, dobbiamo spostarci nell'asse junghiano pensiero e sensazione, sapete i quattro tipi di Jung. Nell'asse junghiano tra sensazione e pensiero, noi dobbiamo spostarci verso la sensazione, anche se tendenzialmente il nostro cervello per spiegare le cose, per farci stare tranquilli, vuole continuamente pensare, perché il pensiero lo tranquillizza, dà senso al mondo, anche se questo senso non è vero. Creando dei bordelli incredibili. Spesso, spessissimo. Spero diverti risposto, Gabriele, perché come si fa a smontare davvero una convinzione e riprogrammarsi in modo pragmatico, non ce n'è bisogno, Gabriele. Non ce n'è bisogno. Questa è, capisci, tu sei ancora nella crescita personale degli anni 80, anni 90, Gabriele. E lo so che non è un'offesa, è così. Cioè, è così. Le convinzioni, certo, funzionano, eccetera, ma se hai tutto questo ardore verso una convinzione significa che c'è un problema e se c'è un problema non è una questione di convinzioni, devi andare da un mio collega a fare una chiacchierata. Cioè, se invece tu mi dici no, ma io voglio la convinzione di essere il miglior nuotatore del mondo, no, non funziona così. Non funziona così neanche la performance sportiva. Non funziona partendo dalla convinzione che sei il miglior nuotatore del mondo. La convinzione che sei il miglior nuotatore del mondo la costruisci allenandoti ogni giorno, facendo allenamento, andando in piscina, confrontandoti con altre persone, facendo dei tempi e misurandoti con altri nuotatori, non convincendoti nella tua stanza che sei il più bravo nuotatore del mondo. Non so se riesco a spiegare questa roba, ragazzi, perché qua c'è tutto il problema di come viene raccontata la crescita personale oggi. Ti convinco forte, forte, forte di qualcosa e ce la fai, ma non è vero. Certo che la convinzione è utile, certo che mi devo convincere, ma basta poco. Non è necessario che io stia lì davanti allo specchio, ce la posso fare, basta poco a convincersi per fare quel passo che mi conduca in piscina ad allenarmi. E poi a furia di allenarmi, a questo proposito c'è la bellissima scala dei livelli logici di Robert Diels che è una crescita personale anni 80, ma che ci aiuta tantissimo a capire questa roba qua. Robert Diels, partendo appunto dai livelli logici di Bernard Russell che ha ripreso quelli di Gregory Bateson, si inventa questa scala gerarchica dell'esperienza dell'apprendimento umano, dicendo che quando tu vuoi salire in alto verso, diciamo così, un'identità da, non so, lo sportivo più bravo del mondo, è bene che tu segua una specie di livelli. Questi livelli, è chiaro, se tu vuoi diventare un bravo nuotatore, andrai in piscina, ti serve un ambiente, il primo livello dei livelli logici di Diels, no? Ti serve l'ambiente, quindi andrai in piscina, ti servirà la possibilità una piscina vicino casa, poi dovrai fare delle azioni, cioè significa andare in piscina, allenarti, a furia di fare delle azioni creerai delle abitudini, cioè l'abitudine di andare in piscina e allenarti, a furia di creare, in furia di andare in piscina, fare delle azioni, creare abitudini, svilupperai delle competenze e delle abilità, a furia di andarci, a furia di sviluppare competenze e abilità, un giorno dirai sono un nuotatore professionista, cioè avrai una convinzione sulla tua, sull'abitudine e su ciò che hai costruito e questo costruirà la tua identità come nuotatore. Ma se noi togliamo tutti i livelli precedenti, ci resta solo quello dove ti devi convincere che sei un nuotatore, ma se non vai in piscina e non ti alleni, hai voglia a convincerti di essere un nuotatore. a proposito di piscina, Ceci scrive in piscina anche se in mezzo al verde, ma con gente intorno è stata dura ma bella. Grande Ceci. Ma se non si fa disputing, scrive John John, come si trova la soluzione al problema che ho? Io ho proprio la sensazione che se non dedico del tempo a trovare una soluzione, allora il tempo lo considero perso. Ed è proprio questo l'ostacolo più grande a questo tipo di pratica meditativa. È chiaro, John John, che se devi risolvere il problema di come portare a casa la pagnotta a fine mese, non è che la meditazione ti aiuterà. Ma se devi risolvere un problema emotivo, se ti arrabbi, se vai in ansia, se hai paura, se hai senso di colpa, se ti fai troppe seghe mentali, allora non hai bisogno di risolvere a livello intellettuale. Anzi, più cerchi di risolvere a livello intellettuale e più ti incastri, John John. Tu hai bisogno di un'esperienza emozionale correttiva che puoi sperimentare con la pratica della meditazione se il problema è piccolo, ok? Ma anche se è grande, se sei abbastanza equilibrato, ma ci metterai tanto, oppure in psicoterapia. In psicoterapia si fa quello, ma in psicoterapia non si fa disputing. Non è che ti dico ah, allora pensi di essere un nuotatore? Fammi vedere, dai! No, cioè non creo. Vedi, tu, John John, sei abbastanza intelligente per trovare le soluzioni razionali al tuo problema, ma se il tuo problema non è nell'ordine della logica razionale, non è quello il livello a cui deve essere affrontato. È un livello diverso, è un livello emotivo, chiamalo come vuoi, inconscio, chiamalo simbolico, chiamalo come vuoi, ma è un livello differente dal livello, diciamo così, con il quale riesce a risolvere. è la stessa cosa che ha detto Einstein, cioè non possiamo risolvere un problema restando allo stesso livello logico nel quale il problema si è formato. Ed è come se tu, spiegandoti, cercando di disputare questa cosa dentro di te, è come se fossi il barone di Munchausen, no, il famoso libro, che si prende per il codino e si tira fuori dalla sabbia mobile da solo. È un bel casino, è un bel casino. Non so se riesco a spiegare. Questa è una cosa, John John, su Psynel trovi 400-500 post che parlano solo di questo, solo di questa differenza. Per cui, se sei qui e mi fai queste domande, John John, credo proprio che tu non mi segua tanto bene. È strano, perché il tuo nome lo vedo qualche volta, non lo vedo spesso, ma lo vedo qualche volta. Ciro scrive, io vedevo solo riviste e giornali, ma ho collegato eventi completamente diversi da ciò che vivo nel mio presente. È vero, è così che facciamo, in un attimo, pum, 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 e saltiamo velocissimi. Simone scrive, io sono un fisioterapista, più mi specializzo, più vado a fondo nello studiare corpo per capire da dove partono i problemi posturali e i problemi fisici, e più mi avvicino all'aspetto psico-emotivo. Credo che prima o poi inizierà comunque a studiare psicologia. Eh Simone, sono molto collegato. Io ho lavorato per più di dieci anni con una fisioterapista, era anche osteopata, aveva 100.000 specializzazioni particolari e moltissime volte ci siamo rimbalzati i casi in senso positivo, nel senso che lei aveva un caso, io ne avevo un altro e agevolare questa, come potremmo chiamare, agevolare questa conversazione è importantissimo. A cosa servono? Axel fa una domanda su... Ciao Ben, Mena, ciao, breve ma intenso, ho sentito le pulsazioni aumentare, normale? Sì, Mena è normale. Soprattutto se magari sei una persona che già naturalmente sei un po' attenta a quel fattore lì, no? Axel scrive, Axel fa una domanda della Madonna, mi servono 100 giorni per risponderti, Axel, potrei suonarti un pezzo di Gans, ma, visto il nome, ma mi limiterò a provare a risponderti in modo breve. A cosa servono e quali benefici hanno le meditazioni top down? E queste si basano sullo stesso meccanismo dell'ipnosi, diciamo? Allora, la risposta è sì alla seconda domanda, cioè l'ipnosi è una specie di meditazione top down, ok? Mettiamola così, è quello lo scopo, lo scopo è andare a lavorare con le risorse interiori. Le tue risorse interiori sono rappresentazioni top down, sono cose che hai imparato, ok? Quindi, se io voglio mobilizzare quelle risorse interiori, lo posso fare meglio se parto dall'alto, ma posso partire anche dal basso, ci sono pratiche di ipnosi che partono da fissa un punto, oppure pratiche di ipnosi che dicono senti le sensazioni delle tue mani e da lì possiamo saltare a un altro livello. Quindi, le meditazioni top down possono essere molto utili, ma sono meditazioni molto spesso rivolte a cose specifiche, tipo rilassarmi, tipo avere idee creative e cose del genere. Ma quei benefici, ragazzi, che voi leggete sulle riviste, che leggete quella meditazione aumenta, spessisce il cervello, lo rende più forte, lo allena, che migliora i monaci che entrano nelle macchine, eccetera, quella meditazione lì è quasi sempre bottom up. Tranne alcuni casi dove c'è la love and kindness meditation, che invece quella è più top down. Love and kindness meditation è il top down perché io devo pensare alle persone a cui voglio bene e per pensarle devo tirarle fuori dalla mia rappresentazione mentale. Capite ragazzi che non esiste una completamente top down, completamente bottom up. Però in modo semplice questo è anche abbastanza serio, abbastanza scientifico per descrivere le varie forme di intervento che utilizziamo. Simone scrive l'ultimo master che ho fatto sulla correzione degli schemi posturali motori basava tutta la sua pratica sul concetto di sostituzione muscolare per cui alla base di problemi articolari ci sono muscoli superficiali che lavorano troppo e che sostituiscono muscoli profondi che lavorano troppo poco. Quando ho chiesto all'insegnante perché questo avviene mi ha detto che è stato osservato clinicamente ma non si sa il perché. Io sono convintissimo che sia generato da una riduzione del tono posturale legato al fattore emotivo. Purtroppo non ho trovato niente in letteratura scientifica prima o poi sono sicuro che la scienza collegherà le due cose. È possibilissimo Simone è davvero possibile ciò che dici tu non solo non solo queste correzioni io credo che questo sia anche il modo con il quale noi correggiamo involontariamente le problematiche psicologiche e ci arrovelliamo tra di noi. Cioè quando torniamo all'idea del disputing che non vi piace ammettiamo che io sono sereno sono al mare sono bello sereno al mare con la mia famiglia sono lì bello tranquillo ci sono i miei amici e a un certo punto passa uno e mi dice pelato del cazzo magari uno che conosco pure in modo che mi attivi ammettiamo che io abbia sempre il problema appunto con i miei capelli che vi dicevo prima e allora sono lì che pensavo mio dio mi ha detto che sono un pelato è vero sono un pelato e questo ho 40 anni ne dimostro 82 e se la gente pensasse che non sono abbastanza intelligente perché non questa catena associativa di pensieri arriva solo se io non sto molto bene se io sto bene ma rido giusto? siamo d'accordo? oppure se sto bene sono in forma dentro di me penserò ma che cazzo vuole quello lì? ma vai a quel paese questa semplice micro compensazione dentro di me questo micro disputing mi solleverà giusto? è capitato a tutti ma se io ho un problema emotivo profondo legato al fatto di essere senza capelli e per caso non sto benissimo non sono al mare col cocktail in spiaggia con i miei amici ecco che magari farò un po' più peso a quella situazione ecco che magari inizierò a cogliere un po' di più quella cosa lì e questa cosa qui senza rendermene conto mi porterà nel top down a cercare di risolverla a pensare perché il modo migliore per risolvere queste cose come diceva John John che ovviamente è sbagliato nel nostro punto di vista è pensarci più ci penso più troverò una soluzione a questo problema sì se è un problema di tipo di ragionamento è vero se è come portare a casa più soldi come fare di bilancio come produrre un nuovo corso sì ci devi pensare ma se è come stare meglio nei confronti di quell'offesa allora siamo in un altro campo proprio siamo in un altro livello logico grande è la prima volta che vi sento live guarderò ottimo John John beh Simone scrive Andrea più faccio fisioterapia e più trovo correlazioni tra emotività e lo stato psicologico e i diversi problemi fisici non sto dicendo che sia tutto psicosomatico e ti basti la mente ma che questo aspetto sia ancora troppo poco conosciuto sottovalutato a mio avviso il mio fisioterapista dice che ognuno è un ecosistema e funziona a sé trovo sia un esempio calzante ci sta guarda io vi racconto solo questa esperienza qua tanti anni fa nel mio studio Antonella che è la mia collega con cui lavoravo tanti anni fa a Rivarolo Mantovano Antonella Cavaliere dottoressa Antonella Cavaliere era lì che stava trattava una ragazza e mi dice Genna tu per caso c'hai un posto verso sera perché c'è questa ragazza che sta davvero tanto male e dico sì sì per casualmente avevo un buco e arriva nel mio studio chiamiamola Francesca anche se non si chiama così tu sai chi sei perché ogni tanto mi segui e Francesca Francesca è completamente bloccata sapete cosa vuol dire c'è il collo storto da un lato adesso non ve lo so descrivere quindi perdonami Simone e perdonatemi esperti di di anatomia ma c'è tutto il collo storto praticamente che va verso la spalla sinistra tutta così tutto così e la bocca anche un po' storta il che mi faceva mi faceva preoccupare aveva detto cazzo questo c'è un ictus c'è qualcosa di strano di neurologico in corso e lei mi dice no guarda sono soltanto molto molto tesa allora io gli dico va bene facciamo un po' di rilassamento e abbiamo fatto l'ipnosi lei è entrata in trance immediatamente e durante l'ipnosi si è sbloccata cioè mentre era in ipnosi tutta storta si è raddrizzata quando ha aperto gli occhi ha detto mi sono raddrizzata ho visto attenzione non gli ho detto di raddrizzarsi non gli ho detto adesso ti raddrizzerai no gli ho dato delle suggestioni di rilassamento di tranquillità di distensione eccetera eccetera e piano piano si è messa dritta diciamo così non è stato è la prima volta che mi capitava in modo così evidente quindi è fantastico tanto vedo che state citando Battiato bene molto bene Isaac permetto di essere una persona molto positiva pensi che sia assurdo credere di riuscire a lavorare su se stessi con pratiche di meditazione per riuscire ad aiutare una persona al mio fianco con un percorso pieno di traumi sì se non sei mio collega Isaac non farlo le farai male Isaac te lo ripeto se tu anche se tu hai fatto la meditazione dei sette anni in Tibet se non hai gli strumenti della psicoterapia evita di giocare a fare lo psicologo se proprio vuoi aiutare quella persona Isaac ti do un consiglio silenzio e ascolto se tu fai silenzio e ascolto senza fare domande sui traumi proprio scordatelo scusami Isaac ma scorda rischi di rovinarla rischi di farla stare cento volte peggio se tu non sai gestire la riapertura di un trauma rischi di aprire una porta che poi non sai più chiudere e la persona si ritroverà a doverla chiudere da sola fidati di me se proprio vuoi aiutarla medita perché ti fa bene meditare resta accanto a lei ascoltala ma evita di fare elucubrazioni terapeutiche su quello che potresti fare con lei a meno che tu non sia un psicologo psicoterapeuta con esperienza davvero quindi perdona l'attacco ma è importante e pensi che un percorso psicoterapeutico potrebbe essere sufficiente per riuscire a super difficoltà e devo accettare il fatto che ne abbiamo due percorsi diversi aspetta che adesso ti rileggo meglio ho attaccato subito Isaac perché sapete che è mia responsabilità se adesso ah sì è così facile top down bottom up ci provo con mia madre no non va bene ok pensi che sia assurdo credere di riuscire sì credere di riuscire a lavorare su se stessi per aiutare gli altri se non sei uno psicoterapeuta è assurdo è come credere di leggere un libro di anatomia e fare il chirurgo ok non so se riesco una persona al mio fanco con un percorso pieno di traumi che si rifiuta però di essere aiutata per uscirne essendo disposto anche ad accettare tutti i suoi malessi fino solo per autosobotarmi rischieresti di fare male a te e a lei se proprio vuoi fare qualcosa di bene Isaac se vuoi fare qualcosa di bene vai tu in psicoterapia come forse ho già capito falle vedere che ti fa bene diventa tu una persona migliore e lei ti seguirà ok soprattutto se è un tuo parente se è un tuo familiare ma stiamo attenti alla roba di fare gli psicologi per i fatti nostri ve lo assicuro poi vengono da me beh fa lo stesso io se non fossero esistite tutte le persone che giocavano a fare la PN quando ho iniziato a fare questo lavoro all'inizio non avrei avuto pazienti invece ho avuto la gente dicendo ah sai che sono andato da quello mi ha fatto l'ipnosi e adesso non dormo più va bene vieni qua attenzione non sto dicendo che queste cose siano pericolose sto dicendo che se le fai male sulla persona sbagliata può capitare e qui e lì bisogna stare attenti grazie mille grazie mille genna scrive gabriel comunque le convinzioni di cui parlavo riguardano più quelle convinzioni che abbiamo nei confronti degli eventi e della vita quelle convinzioni limitante che ci bloccano negli stessi circoli e sono uguali gabriel stessa identica roba anche se ti sembra più grande potresti rispiegare in breve il top down e bottom up che mi sono perso la parte iniziale allora diciamo che quando noi noi abbiamo due modi per fare esperienza gabriel in questo momento per capire le mie parole devi agire in due modi devi aprire le orecchie e allo stesso tempo attivare l'italiano l'italiano è il top down ok no aspetta come posso spiegarlo brevemente anche se non so aspetta fammi vedere quanto tempo c'è ragazzi sono un po' stanco infatti sono 49 minuti no direi che gabriel che puoi riascoltare l'inizio ok erica ti solleverà ok ti solleverà e scatterà ti solleverò dai dolori di tua esatto perfetto erica ecco ho battiato il valore di questo podcast è enorme grazie l'avessi pagato 300 euro come corso l'avrei considerato soldi ben spesi grazie simone bellissima erica bellissima eh sì bellissima l'ha battiato beh simone puoi sempre prenderti mma che parla molto molto bene di queste cose sono approdata da genna e la meditazione per sopportare il dolore cronico della fibromialgia mi sta aiutando grazie ceci perché questo è è una bella testimonianza per tutte le persone che soffrono perché è davvero una bestiaccia la fibromialgia sì Axel scrive mi sembra che in una passeggiata accostassi le esperienze con gli psichedelici alle meditazioni top down quindi possiamo dire che queste esperienze agiscono su quello che già conosciamo e non servono per migliorare in generale la qualità della vita possono servire allora questa è una bella domanda Axel perché non è proprio così gli psichedelici aprono anche un po' la mente ok quindi potrebbero essere attenzione anche qui sembra che che vi spinga a drogarvi assolutamente no no gli psichedelici hanno un effetto particolare tipo partiamo da uno psichedelico molto light che sono le canne ok quindi il THC no anche il THC non potremmo definire uno psichedelico ma è comunque è una droga che al contrario di altre droghe ti fa pensare mettiamola così è una droga introspettiva mentre ci sono droghe che invece ti fanno diventare più estroverso anche se non è vero come ad esempio l'MDMA o la cocaina mentre ci sono droghe che sono più psichedeliche come ad esempio l'LSD ma anche le canne ok anche il THC ecco quando tu fai utilizzo di THC tra virgolette quello che succede è che a un certo punto fai scambi semantici nella tua mente cioè magari una persona dice una roba e tu invece di capire quella roba lì capisci un altro livello di significato tipo qualcuno dice non so la sbarra è chiusa e tu pensi che ci sia una persona che sta sbarrando la porta ok cioè una persona dice un termine e tu pensi qualcos'altro questo errore semantico è la chiave della è la chiave della confusione mentale ma è anche la chiave dell'arte e l'arte è questo è far vedere qualcosa che magari è sotto gli occhi di tutti dà una prospettiva completamente nuova e questa roba qui è un effetto dello psichedelico la psichedelia ha un po' questi effetti anche l'effetto a furia di fare queste cose di farti riorganizzare il cervello ma infatti ragazzi questo è solo un pezzettino microscopico di tutto ciò che ci sarebbe da dire ci sarebbe anche da dire che quando tu sei nel presente e lasci il tempo al tuo cervello di riorganizzare le mappe lui li organizza meglio le riorganizza meglio di come le riorganizzeresti te pensando di sapere esattamente come organizzarle questo è un po' il tema anche dell'ipnosi ericksoniana cioè io mando la persona in trans e mi auguro che al suo risveglio questi moduli che sono al suo interno vengano riassociati meglio di prima mettiamola così vabbè ragazzi mi sto lanciando un po' troppo in là però è sempre questo il tema è molto affascinante Ciro io sono partito dal mazzo ceci ma poi ho scoperto Genna che è più adatto alla mia situazione ottimo Simone penso che smetterò di farmi seghe mentali quando ci sarà qualcosa che mi darà fastidio e mediterò solo più in pratica mi hai smontato ogni convinzione che potevo avere sull'utilità di pensare e andare a fondo sul problema per risolvere no Simone ci sta eh è come se fossero due cose diverse Simone una cosa puoi farla e la fai già naturalmente cioè pensare tanto al problema lo fai già naturalmente non hai bisogno di nessuna pratica per farlo certo volendo puoi mettergli carte penna i pro i contro fare un piano cartesiano cercare di individuare i punti deboli i dubbi i punti forti farti aiutare da un amico a ragionare va benissimo e poi c'è quest'altro modo di affrontare il problema che è un modo un po' diverso è un modo per fare spazio per fare spazio anche all'altra parte e il fatto è che molte volte non ci rendiamo conto che è proprio il nostro tentativo di risolvere qualcosa a creare il problema un esempio classico è l'ansia con l'ansia noi nel tentativo di essere più tranquilli magari vogliamo non pensare a quella sensazione ci entriamo ancora di più vogliamo regolare il respiro e invece di regolarlo immettiamo talmente tanta aria che ci viene la sensazione che ci manchi noi nel tentativo di risolvere qualcosa tendiamo a peggiorarlo di risolverlo come? attraverso il pensiero e invece c'è come tutta una scuola che ci sta dicendo che ovviamente al di là di psicopatologie importanti se riusciamo a restare a contatto con l'esperienza senza fare niente qualcosa cambia e solitamente cambia in meglio una volta farei una puntata su questo interessante c'è molta disinformazione ah sì immagino dopo la meditazione di oggi riprendo assolutamente a meditare grazie davvero oh che bello ottimo Roxanne Ciro anche io la stessa cosa poi letti tutti i libri in mezzo di Jenna aspetto il secondo un secondo facci caso non posso dirvi niente non posso dirvi niente ok 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 sto zitto sto zitto che poi non mi fanno fare più niente però avete capito ok detto questo che non ho detto vi do appuntamento ragazzi a domenica domenica ci sarà una puntata ancora una volta sull'analisi del comportamento non verbale sarà ancora una volta una bella puntata che parlerà di come funziona l'analisi del comportamento non verbale di come possiamo farla tutti in modo davvero semplice senza tutte quelle seghe mentali ti tocchi significa quello significa quell'altro quindi sarà una puntata davvero speciale come al solito domenica alle 18 vi ricordo che il podcast di Psinel è offerto da Psinel.com quindi se andate su Psinel.com in alto a destra trovate tutti i nostri corsi e questi corsi ci aiutano a fare un podcast sempre migliore bene grazie a tutti ci vediamo sui social ci vediamo in giro su tutte le piattaforme di Psinel e che dire buona testa della Repubblica a tutti ciao a tutti un abbraccio un abbraccione a tutte e a tutti